Caro Pinamonti, chi ti parla è Antonio Cassano? Chi cazzo sei per dire che ti ha dato fastidio? Chi pensi di essere? Deve dar fastidio a Benzema, che a sette anni non è stato chiamato nella Francia, che al suo posto giocava Giroud, buon giocatore, lui era un fenomeno. A lui può dar fastidio, gli può girare i coglioni. Non giochi nella tua squadra di club e ti permetti di rispondere, imbeccato da qualcuno, in mala fede, che ti chiede cosa ti deve dar fastidio. Inizia a fare qualche gol nella tua squadra, anzi, inizia a giocare nella tua squadra, visto che fai panchina. Di cosa stiamo parlando? Hai fatto l'anno scorso 12 gol all'Empoli, sei diventato buono pure te. Parlano tutti adesso.